Dura invece la reazione dei vescovi italiani che esprimono sconcerto e distanza dalla sentenza. La preoccupazione maggiore spiegano è che i soggetti sofferenti arrivino a ritenere che chiedere di porre fine alla propria esistenza sia una scelta di dignità. La Chiesa chiede ora per gli operatori sanitari la garanzia dell'obiezione di coscienza. La decisione della Corte è una decisione grave perché per la prima volta in Italia introduce la possibilità di finire, troncare la vita di un malato attraverso un'iniezione di un farmaco letale. Questo ritengo che rompa i vincoli di solidarietà che invece deve avere lo Stato, la legge e tutti i consociati nei confronti delle persone più fragili.